La Salernitana, Merino sinistro, palla che è stata allontanata, poi il tiro di Pepe Rete, pareggio, pareggio della Salernitana, vediamo la realizzazione, sommerso l'autore del gol, bellissimo gol peraltro, gol molto bello, quello realizzato dal giocatore che è entrato poco fa, Pepe dunque ha messo dentro con una conclusione molto bella, a 7 minuti dalla fine, rivediamo, palla allontanata, messa fuori raccolta, Pepe destro, nulla da fare per Acerbis sugli sviluppi della punizione di Merino, Gran girata di Pepe e 2 a 2 dunque la Salernitana, possiamo dire, meritatamente ha trovato il pari, anche se nel caso... Grazie a tutti!